Il 26 settembre, intorno alle ore 12, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale effettuerà in Abruzzo la sperimentazione di IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico di emergenza atto ad informare la popolazione che si trova in aree potenzialmente a rischio. Per il Lazio, che aveva il test il 21 settembre rimandato a causa dell'allerta a maltempo, il test IT Alert ci sarà mercoledì 27 settembre. IT Alert è il sistema di allarme pubblico oggi in fase di sperimentazione di cui a brevissimo si doterà l'Italia. Quando sarà operativo permetterà di diffondere allarmi pubblici che arriveranno direttamente sui dispositivi mobili di coloro che si troveranno in un'area interessata da gravi emergenze oppure nell'emminenza di queste. IT Alert contribuirà ad ampliare le modalità di informazione e di comunicazione già previste e utilizzate dalle istituzioni per informare la popolazione. I messaggi di questo sistema di allerta si basano su una modalità di comunicazione unidirezionale, un po' come il segnale televisivo, fatta di un breve messaggio di testo che apparirà sul nostro dispositivo accompagnato da un suono particolare. Il messaggio rimarrà finché non verrà data conferma di averlo visualizzato ed è bene specificare che questa soluzione tecnologica non comporta alcuna compromissione della nostra privacy. Il mese di settembre vedrà coinvolto l'Abruzzo per le attività di test, dapprima per via della sperimentazione nelle regioni a noi limitrofe, quindi se ci troveremo nei pressi di queste regioni potremmo anche noi ricevere il messaggio che annuncia il test. Poi il 26 settembre verrà coinvolta l'intera regione Abruzzo. Quel giorno tutti noi riceveremo sui nostri cellulari un breve messaggio di testo che ovviamente conterrà in questo caso l'avviso della sperimentazione. Saremo inoltre chiamati a compilare un breve questionario contribuendo così ognuno di noi al test nazionale di IT Alert. E ricorda, siamo tutti protezione civile.